Cagliari, il funzionario ADM in servizio presso la sezione operativa territoriale presso l'aeroporto di Cagliari Elmas, con l'ausilio dell'unità cinufila Cash Dog della Guardia di Finanza nel corso dell'attività di monitoraggio sulla circolazione trasfrontaliera dei capitali, hanno fermato una passeggera di nazionalità venezuelana in partenza per la Spagna, risultata in possesso di contante non dichiarato per 25.000 euro. La legge in vigore dispone la libera circolazione di valuta all'interno dell'Unione Europea per importi fino a 10.000 euro, oltre i quali il viaggiatore è tenuto alla presentazione di una dichiarazione di valuta presso l'ufficio di entrato o di uscita dal territorio nazionale. La signora in questione dichiarava di portare con sé 10.000 euro, ma una verifica più accurata del bagaglio a mano ha consentito ai funzionari di rinvenire ulteriore valuta per un ammontare complessivo pari a 25.000 euro. La passeggera si avvasa della facoltà di effettuare l'oblazione immediata con il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari al 15% dell'importo eccedente limite consentito di 10.000 euro. Tale attività di controllo sul denaro contante si colloca in un più ampio sistema di operazioni condotte da ADM e Guardia di Finanza e finalizzate la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.